Nome e cognome Giulio Saita Caterina Petta Ruolo e posizione Origination Manager nella direzione Corporate Italia di Intesa San Paolo Consulente di direzione in supply chain management di WC Cioè? Praticamente finanziamo le aziende Oh, è lunga Che lavoro volevi fare da piccolo? L'attore di commedie francesi Da buona greca il comandante di nave L'offerta che non potresti mai rifiutare? Beh, il giro del mondo in 80 giorni Ce ne sarebbero due, il presidente di BIA e il comandante di nave L'offerta che invece non avresti mai il coraggio di accettare? Il cardiochirurgo L'insegnante e per quello i nostri prof hanno tutta la mia ammirazione Un errore sul lavoro che ti fa venire gli incubi Arrivare tardi ad un appuntamento importante Perdere la mia rubrica, il nostro network non ha prezzo Nella vita professionale, quanto aiuta il confronto con altri alumni? È fondamentale Spesso mi confronto con altri alumni E penso che sia utile per capire se stai andando nella giusta direzione Tutti gli alumni hanno percorsi di carriera e vissuti professionali estremamente diversi Ma ci accomuna una grande cosa La fiducia Un nuovo alumnus viene a lavorare con te Qual è il primo consiglio che gli dai? Sforzati di essere curioso E nelle parole del mio EMBA Non smettere mai di esplorare Convinci chi ti sta guardando ad associarsi alla BIA L'ABA è innanzitutto un gruppo di amici Spesso nelle iniziative dell'ABA incontro sempre gente brillante e interessante Penso che sia un'ottima opportunità per accedere a un network di conoscenze professionale Per cui ti aspetto, associati È un po' come la fede calcistica A parte Eder rende orgogliosi Ci sono tante cose per cui fare tifo Tante vittorie da celebrare Chi mai non vorrebbe appartenere ad una squadra vincente?